Devo sapere che questo padre voleva uccidere la civetta. Questa sera, quell'animale lì canta sugli alberi. Cosa ha fatto? Adesso per fare il fucile, come si presenta, il figlio si è alzato, è andato a piegare i partiti e il colpo, ha ucciso il figlio. Ah, per bacco. Ho già capito, sono stato io, quello che vuole, ha ucciso la civetta. Per bacco. Sono brutte cose, penso a un genitore che uccide il figlio, vuoi che l'abbia fatto apposta? Sicuramente apposta non l'ha fatto. Quanto amorezza nella vita.